Gentili telespettatori, buona giornata. Film tolo tolo di Checco Zalone che nel primo giorno di proiezione ha fatto il record assoluto di incassi del cinema italiano. C'è chi lo paragona ad Alberto Sordi e chi dice no è un'eresia. Adesso vi leggo l'opinione di Massimo Boldi che è un esperto di cinema, lo possiamo considerare un esperto, l'opinione di Massimo Boldi proprio su questo film e poi dopo vi do la mia opinione. Allora Boldi dice ho visto tolo tolo di Checco Zalone ieri pomeriggio in un cinema di Lucca, code e sala gremita come immagino ovunque in Italia per il film più atteso dell'anno. Ho diciamo così una certa esperienza nel settore ma non sono un critico cinematografico, quindi parlo unicamente da fan e ammiratore del collega Checco. Dico la verità, mi aspettavo di ridere tanto, invece ho sorriso, quei sorrisi amari che più che divertire ci interrogano sul mondo che ci circonda, sulle sue debolezze e contraddizioni. Ma da comico non sono deluso, anzi apprezzo che Checco Zalone, re della risata, abbia volutamente rinunciato alla sua comicità debordante per percorrere con il sorriso la strada delle problematiche sociali, in questo caso l'immigrazione. Mi vengono in mente due paragoni di artisti che hanno usato in passato questa chiave interpretativa, detenuto in attesa di giudizio con Alberto Sordi e La vita è bella di Roberto Benigni. Conosco Zalone da molti anni, viene da Zelig, programma che nacque nel 1997, ed era condotto da me e Simona Ventura. Zalone arrivò nella seconda edizione, che io non conducevo più, ma lo conobbi ugualmente. Era un ragazzo simpatico che ho molta voglia di fare e soprattutto piaceva tantissimo al pubblico, più di tutti gli altri. Zalone aveva una marcia in più anche perché cantava e cantava molto bene. In quel periodo io avevo iniziato la mia avventura di produttore cinematografico con mio fratello Fabio. Stavamo iniziando a preparare il film La fidanzata di papà e volevamo scritturare Zalone perché ci piaceva molto. Checco purtroppo non riuscì a prendere parte alla nostra pellicola perché aveva un altro impegno. Poi, pochi anni dopo, improvvisamente fece un film, Cado dalle nubi, che raccolse un successo straordinario, con incassi da milioni di euro, incassi che non si facevano più da anni e che anche oggi difficilmente qualcuno riesce a uguagliare. Un successo clamoroso perché il personaggio Zalone emana un interesse eccezionale che trascina al cinema milioni di persone. La differenza tra lui e gli altri comici italiani di successo è notevole. Credo che solamente io e Christian De Sica possiamo metterci nelle condizioni di fare uno spareggio con lui. Solamente noi siamo riusciti a fare numeri del genere al botteghino. Sono stato a casa sua qualche mese fa. In privato è una persona molto gentile e serena. Intorno a lui ci sono solo amici veri. A Roma ha acquistato una cascina che di fatto è una sala incisione. Zalone ama cantare e la sua grande passione. Ho potuto vedere il suo modo di lavorare e mi ha fatto molto piacere. Chissà, magari un giorno faremo un film insieme, ma potrei fare il suo padre, potrei fare suo padre, vista l'età. Anche per il suo amore per la musica, secondo me, Checco è un figlio di Adriano Celentano, un suo surrogato, un celentanoide. Io ho lavorato con Celentano e lo conosco bene. Adriano ancora oggi è qualcosa di insuperabile. Secondo me Checco va analizzato con questo metodo, partendo proprio da Celentano. Il pubblico li segue e li ama. Checco Zalone si è distaccato dalla comicità classica degli anni Ottanta, ma rimane sempre ancorato alla tradizione italiana, con cui lui continua la favola di Adriano Celentano, continua il mito. Intanto il Mereghetti gli dà come pagella questo film 7 perché vuol far riflettere e riesce anche a far riflettere. Secondo la mia opinione, Checco Zalone non è né di destra né di sinistra. Lui rifiuta gli schemi ideologici e sa essere sgradevole con tutti. Attenzione, adesso dopo i numeri schiaccianti al botteghino tutti lo riabilitano, tutti dicono che è geniale, un genio, un comico insuperabile. Ma attenzione, fino a qualche giorno fa la categoria molto ampia in Italia dei buonisti lo attaccava e lo accusava di razzismo, che addirittura era intervenuto anche il segretario della Lega Matteo Salvini che dice ma lo vorrei come senatore a vita, ma quale razzismo? Attenzione, purtroppo il politicamente corretto, questa specie di bavaglio che abbiamo creato noi stessi, è quella sorta di ipocrisia allo stile americano, dove tutti sorrisi, poi quello che uno pensa è di una malvagità assurda, ma non lo può dire, non può fare nessun commento, perché qualunque commento può offendere in qualche modo qualcuno, anche lontanamente. Quindi il politicamente corretto impone un pensiero e delle opinioni che non offendano neanche, per sbaglio, chiunque ci sia al mondo, che sia un animale, una persona, una cosa, una religione, un partito politico. Quindi il politicamente corretto è un bavaglio che è posto non solo ai cittadini, ma anche nelle televisioni, nei libri, nel cinema. Ovviamente non esiste più il cinema a quello degli anni 80, non so se vi ricordate, ad esempio mi viene in mente i film di Abbatantuono, quella serie di film comici, Abbatantuono, cappellone così, ma ne diceva di tutti i colori sui meridionali, sugli omosessuali, ne diceva di tutti i colori e la gente si sbellicava dalle risate. Ancora spezzoni di quei film li trovate su YouTube. Allora quei film con la visione di oggi sarebbero dei politicamente scorrettissimi, un qualcosa da cancellare dalla storia della cinematografia italiana. Quindi il bavaglio è arrivato anche addirittura a dire a Checco Zalone tu non puoi parlare di immigrazione, perché non si capisce se tu sei di destra, di sinistra, ma no, tu sarai razzista, perché se ridi, se fai un film di questo tipo vuol dire che stai prendendo in giro la migrazione. Lui stesso, Luca Medici, voi direte ma chi è Luca Medici? Luca Medici è Checco Zalone, lui si chiama Luca Medici, ha detto ma questo basta con questo politicamente scorretto, fatemi fare un film, fatemi parlare di questo tema, fatemi parlare di questo tema in maniera un po' leggera, un po' da ridere, perché è anche un tema, anche qualcosa di tragico, lo si può affrontare anche con il sorriso, anche con una strisciante comicità. Infatti lui ha portato milioni di persone nelle sale di tutta Italia e in questo milioni di persone, non ci sono solo persone di sinistra, solo persone di destra, è un film che possiamo dire trasversale, perché a vedere questo film c'è la persona di sinistra che è lì dicendo e odiando Salvini, odiando la destra, dicendo questo che stiamo vedendo e colpa... E lì ha seduto a vedere il film, c'è anche il razzista che ride vedendo se stesso nella pellicola, nel film. C'è anche la persona cinica che ride di se stessa, perché nel film Zalone rispecchia praticamente tante cose, c'è anche il suo strisciante essere razzista, no? Un italiano che di fondo ha il razzismo, che si trova in una situazione come questa e comincia, nonostante il suo modo di fare, comincia a capire tante cose. Non c'è più il Zalone che dicevano qualonquista, un fenomeno scurrile, volgare, dozzinale, scorretto, non è più il Checco Zalone di Zelig con i suoi personaggi, c'è un'evoluzione dell'artista, è un artista che sta diventando più maturo, è un artista che farà lo stesso percorso, ad esempio di Abba Tantuono che parte da Eccezionalo Veramente, che fa Santrino Guatticciumpo, ve lo ricordate, no? Abba Tantuono faceva il tifoso del Milano, c'è il Vangelo secondo me, ve lo ricordate, che aizzava e poi faceva far silenzio ai tifosi. Abba Tantuono poi è passato dai film mediterraneo, ve lo ricordate quel bellissimo film mediterraneo girato in Grecia che parlava di quei soldati italiani abbandonati su un'isola greca della seconda guerra mondiale, oppure altri film come Puerto Escondido, bellissimo che mi ricordo Puerto Escondido. Io vi posso dire che l'attore comico ha una marcia in più, ma guardate anche l'attore che non c'è più, grandissimo attore italiano, Alberto Sordi o Paolo Villaggio, persone che hanno fatto film da ridere, no? Sordi davanti agli spaghetti e Mottemagno, no? Sordi davanti agli spaghetti e poi Alberto Sordi con dei film di una serietà eccezionale, Benigni stesso, con La vita è bella, lì è sempre un Benigni, ma un Benigni che fa venire la pelle d'oca sinceramente. Io per molto tempo non ho voluto guardare quel film La vita è bella perché non volevo rimanere impressionato, io sapevo che Benigni prendendo quel tema avrebbe fatto scalpore, avrebbe comunque lasciato un segno a chi lo vedeva e così è stato anche per me. Alla fine ho ceduto e l'ho visto e fa venire veramente i brividi. Quindi a Batantuono, anche lui con questi film, si è una trasformazione dal comico puro, dalle battute. Battute anche Zalone si sta trasformando e diventerà un attore anche molto serio e molto intelligente. Nei prossimi anni lo troveremo a fare dei film drammatici, dei film seri o comunque delle commedie che non sono dei film comici, da ridere come Boldi voleva andare a ridere. No, questo non è il cinepanettone, molti pensavano che questo era il cinepanettone, la sostituzione di Boldi e De Sica. No, anche forse Boldi pensava di andare a vedere un cinepanettone, un qualcosa da ridere per Natale. Però, attenzione, un tema così dell'immigrazione, io lo sapevo che non sarebbe stato un film da ridere, sarebbe stato un film da sorridere, da sorriso amaro. Quindi Checco Zalone non si riesce a incasellare né a destra né a sinistra. A volte nel film sembra che possa prendere in giro questo politico, quell'altro politico, questa parte politica o quell'altra, ma lui dice quello che pensa su ogni cosa senza appunto la paura del politicamente corretto del politicamente scorretto. Quindi in questo film c'è una spolveratina di sinistra, una manciata di cose di destra, c'è un po' di tutto, ma anche l'uomo di destra non è tutto di destra. Scusate, è partita la musica involontariamente, stavo dicendo che l'uomo di destra non è tutto di destra. L'uomo di sinistra non è tutto di sinistra. Ogni persona ha mille sfaccettature, c'è l'uomo di destra magari intollerante che poi diventa tollerante su una cosa, c'è l'uomo di sinistra intransigente su quello e poi in un certo caso si comporta in maniera differente. Quindi Zalone interpreta proprio l'italiano che a volte pensa di destra, a volte pensa di sinistra e non lo si può incasellare in un posto ben preciso. E lui, Zalone, prende tutti questi ingredienti dentro destra e sinistra, li mescola assieme ed è proprio questo il suo segreto. Lui è beffardo con tutti, lui prende in giro tutti. Lui prende in giro la sinistra, il prototipo di uomo della sinistra, prende in giro anche la destra con il prototipo di uomo di destra e prendendoli in giro tutti gli spettatori poi si vedono anche allo specchio e ridono di loro stessi. Ma lui che è Cozzalone sa far ridere, sa far riflettere, sa imitare, sa cantare benissimo, come diceva Massimo Boldi, sa spiazzare, sa fare le parodie, sa demolire anche i luoghi comuni proprio ridendoci sopra. E che è Cozzalone, a differenza di tanti comici che si schierano apertamente con centro-destra e centro-sinistra, lui non è ossessionato da un nemico. Che è Cozzalone non ha un nemico da combattere con il mezzo della cinematografia, con il mezzo del giornale, della televisione, dell'articolo su Facebook della videochiamata. Quindi non avendo un nemico non vuole parlare solo alla sua tribù, ricevere l'applauso di cui è già d'accordo. È grottesco, sentimentale, trasversale. Deve dirne a qualcuno, non si sta a chiedere, non si chiede se è politicamente corretto, politicamente scorretto, lo fa e basta. Ad esempio, nei suoi film ride chi ha l'ossessione del posto fisso che vede nel film uno che ha l'ossessione del posto fisso. Quindi molte persone si rivedono e ridono di loro stessi nei suoi film. Ma senza l'ironia Zalone non esisterebbe. Mentre può esistere è anche alla grande senza il patentino politico che gli vogliono dare. Lo vogliono etichettare come o di sinistra o di destra per averne un vantaggio politico barra elettorale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, non comporta nient'altro che un sostegno in più al canale più visibilità. Così con l'iscrizione potete partecipare anche nella community a tanti sondaggi e commentarli. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito ad iscrivervi al canale e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.